Marco no, non te la prendere con me, non ho fatto niente, non sono in creativa, guarda, ho levitation meno 10, sto andando giù invece di salire È che ti ho dato beto, man Burloni bentornati in un nuovo video sul canale Oggi ragazzi siamo tornati con un video veramente molto speciale C'è Marco che ultimamente mi sta trollando un pochettino troppo nelle random bedwars Se guardate lì in fondo è che già sta complottando sicuramente qualcosa, lui adesso non mi sente Ma vi dico solo che ho deciso di trollarlo, ho preso in mano la situazione Vi dico solo che sarà una cosa molto interessante Gli dirò che ci saranno degli effetti particolari che verranno dati ai giocatori Gli dirò che ci saranno dei mob particolari che verranno spawnati e lo trolleremo anche oggi Se volete un altro troll a Marco ragazzi dovete lasciare almeno 10.000 mi piace Ultimamente siamo un pochino bassi con i like però voglio chiedervene 10.000 Sarebbe veramente bello Vi ricordo inoltre che questa sera alle ore 21 sarò in live su Twitch Questa sera server privati di Fortnite visto che me li chiedete in un sacco Adesso andiamo da Marco va E iscrivetevi anche al canale Cioè se non sei iscriviti per il potere Il succo alla bicocca Ok che buono Allora siamo prontissimi per iniziare a fare questa super sfida incredibile del mondo Pazzesca, assurda Mi hai emozionato eh Fioristica Fioristica Allora innanzitutto ti dico subito che mi sono tenuto gli oggetti che appunto mi sono usciti per l'intro Ok Bravo bravo Complimenti E quindi ho deciso che Stai usando dei cheat So già usando dei cheat Ovviamente questo è un bel cheat ma proprio di quelli belli grossi Allora Marco come ben sai ho sistemato un pochettino la mod Questa qua incredibile Tutto questa random bad Orsi che cosa ho fatto di bello Ho messo qualche oggetto randomico diverso da quelli che ci sono delle scorse volte Degli effetti, dei mob e delle cose abbastanza carine Quindi voglio vedere un po' se ci spawneranno Sono veramente molto ma molto Sono curioso Ma molto ma mo Ma se vuol dire molto Quanto Molto rari E quindi niente Però adesso giochiamo la cena normale tranquillamente senza fare troppi Senti non fare i castelli Nei tuoi video i castelli sono Io sono giocato a castello Nei castelli I castelli nei tuoi video sono bannati Anche nei miei video sono bannati Ok Ma cosa che tu li fai lo stesso Non è vero il castello nell'ultimo video non l'ho fatto Perché tu mi hai fatto Tu l'hai fatto il castello No il castello non l'ho fatto Allora mi fermo solo alle mura No sono caduto giù Aspetta che torno su in creativa Ok Non puoi usarla creativa Non l'ho usata giuro Non l'ho usata Non ti preoccupare Oh mi è appena apparso un effetto Mi è appena apparso un effetto Ok resistance va bene Per 12 minuti Ma Forse ho sbagliato con i secondi Mi pare esagerato sai Eh si A parte che ho sentito qualcuno che si tippava qua in qualche modo Che sta mangiando Marco 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 Non si fanno ste cose Per favore Dai Dai sei in creativa pure Non sono in creativa Me ne vado Dove stai andando? Oh via Aiuto No 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 Marci non devi picchiarmi Te l'ho detto Dai ma porca miseria Non mi devi picchiare Se io continuo a schiacciare questo command block Che ha messo lì nello scorso video Continuo a tipparti nello stesso posto Vero? Si Esatto Quindi io posso usare questa cosa a mio vantaggio Quando stai venendo verso di me Ah beh cavolo che vantaggione Eh ti riporto lì eh È fantastica sta cosa Eh è proprio bella Oh Marco mi è apparso secondo effetto Mi è apparso secondo effetto Cosa? Sempre No non è Blast resistance Perché credo che sia la resistenza al fuoco Ok A te niente ancora Aspetta che mangi una mela d'oro Dai ma sei dietro di me Ma basta Va bene me ne torno in base Non uso questo cheat Va bene Ora vado No No sono caduto giù E adesso come fa? Fammi andare in base Mi vanno via gli effetti Marco Eh ma scusami Mi attacchi Cosa vuoi da me? Ma dai che spawn al ceto Aspetta che mi devo mettere in creativa Sei un danno Ok Io non ho fatto nulla Poi se tu mi dare colpe Non è colpa mia Allora Veloce Devo tornare verso casa Per cortesia Torna pure Torna a casa Sì sì Torna a casa mia Mi metto In creativa Per venire da te Io non canterei Fossi in te Guarda perché Marco Guardami Ciao Ciao Oh No Ma mi è avuto jump boost C'è il jump boost Ma quanto è potente Ha preso un sacco di danno No fermi Me ne sto qua dentro io Ma c'è il jump boost Assurdo Ma non ci credo È infinito È infinito Cosa vuol dire che è infinito? Cioè non vedo a che livello sia di jump boost Ok Bello Ma te che effetto ti è capitato? A me è fatto Aia Per adesso Per adesso ho resistance Però me l'ha tolto ovviamente Blast resistance Che sono quella per il fuoco E quella E muoio Muoio Ma non prendo più danno? Perché non prendi danno? Ma quanto saldi in alto? Buonissimo Guarda No 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 Dai Ma io come fai Io devo tornare a casa Marco Ti odio No io odio te odio Odio te odio Perché non mi fai tornare a casa Ma no Ragazzi vieni conto Io non ho fatto nulla Ma io posso andare in creativa Tu mi saranno le colpe di una cosa Che non ho mai fatto Non posso andare in creativa Non puoi usare la creativa Mi sono spawnati mob Mi sono spawnati mob Marco Fatti mi metto lo spawn point Ehi te l'ho messo nel coso Scusami Ah ok Cioè nel mondo le hai messi Eh sì Eh sì Ma le hai messo spawnati un botto Vabbè meno male dai Tipo quanti? Quattro per adesso E che mob sono? Guarda li puoi vedere tu stesso Visto che c'è il tuo nome qua dietro Vediamo Sì ma dai Quattro ero ancora No Marci eh Dove che sei? No Guarda No eh No Ma perché scusami No 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 Dai Marci No vai giù vai giù Eh vai Vai a fare in cuore vai Allora torno verso il centro Allora io Sai con cosa sto usando Per andare verso il centro La nedirite Perché io sono in creativa Marco Io sto Io lo dico Oggi citto Citto Però non ti sto tornando Anche se mi caduto Tu non l'avessi detto Io guarda Hai giuggiato Stavi dicendo Hai giuggiato Quindi Guarda Marco Non devi rompere Per cortesia Oh no 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 Dai so speed Dai Non vale Non mi sentirete sta cosa Anche a me era cammino da speed prima Però ero morto nello stesso istante Ah ti sta bene Ha fatto bene a fare la barriera Ti sta bene Hai fatto la barriera? Sì La barriera hai fatto La montagna Di legno Ah E poi Ho cambiato una delle cose Che mi mi ha assurti Ovvero la TNT Adesso c'è la possibilità Che te ne sponano 64 ti dico solo questo io mi pare esagerato è no 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 sto arrivando a ucciderti sto arrivando a ucciderti perché non posso e non puoi non credevo aspettare perché adesso aspetta che mi prendo una ma come il mod non puoi andare in creativa aveva detto che non si poteva io non sono realmente dove sei scappato scusami c'è un po di speed ma devo prendermi un arco ma se in creativa davvero ma non si può marco non si può speed ma perché sono dietro da solo ciao ma è difficile con l'arco ho preso aiuto ti sta bene dai non riesco a beccarti io perché tu non hai questi effetti brutti ce l'ho avuto prima dai io non ci credo non ti ho visto da roba adesso dobbiamo dobbiamo bermi il succhino albicocca bene bevilo però intanto mi rubo tutte le tue cose dai però non è giusto raga giustissimo raga che diamine non si fa no non sono d'accordo marco no non sono d'accordo d'accordo cioè sono quello più in difficoltà adesso tu sei in difficoltà ma dove ascolta tu non hai mai effetti cattivi ce li sono tutti tutti quanti cattivi ce li sto avendo aspettila aspettila proprio guarda allora facciamo così e direi che ci mettiamo da questa parte qua iniziamo a bardare per bene il nucleo ma non posso neanche shiftato sono velocissimo che senso non puoi c'è anche shiftato sono troppo veloce e quindi non riesco a camminare aiuto sono caduto perché sei caduto mi senti fatto da te per ucciderti ma no 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 ci sono troppi per marci no 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 anche a me i creeper oddio ma sono tantissimi marco sono tantissimi marci marco è esploso tutto nella mia base non c'è nella tua e pensa nella mia tu ed è esploso qualcosa no ma tanto tanto normale no mi ha dato speed dai anche a me ha dato entrambi nello stessi istante sto male sono molto speed mi posso mi posso muovere più velocemente con speed no marco è esploso tutto io marci guarda davvero è esploso tutto aspetta 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 con calma con calma con calma non si può non si può marco guardami dimmi andiamo se ciò dai non ho più niente stai usando la creativa si si adesso si no sono caduto sta bene no non so più io non so più in creativa no certo perché la tua isola è normale la mia è la mia distrutta solo è come la tua il davanti sembra ma non dire cavolate e te vengo ucciderti no aspetta di qua che mi faccio venire lì giù ok si buon viaggio dai non vale certo marco marco no marco è finita è finita per me è finita ho l'evitation anno per otto secondi ok mi son chiuso 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 che effetto di uscito adesso niente non è vero stai trollando giuro ragazzi marco ci sta trollando marco giusto voglia ti sento che stai trollando io ti sento ho fatto qua il pulsante ok no marco ma ho l'evitation io ti giuro l'evitation mi vedi e mi spiace ma guarda io cosa posso farci guarda guarda in alto ti prego sei nella mia isola ti vedo no marco ti prego non mi uccidere no 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 cosa devo fare per venire lì cosa devo fare per venire lì no marco ti prego non mi spaccare il nucleo ti prego no non te lo sto dai guarda cosa è successo me l'hai data tu per forza marci dai non è vero si per forza si dai guarda gli stari atti effetti strani non ho fatto assolutamente marci cosa che c'è lì in alto ci sono le basi nemiche ma ne ha già le basi nemiche marco da me dura 50 secondi no non vale marco non vale aspetta stiamo in alto assieme l'hai fatto veramente dove sei dove sei creative sono già pronto a premerla dai nera stai dando te gli effetti gli effetti ma non i mob sinceramente ah sei proprio un che no i mob no i mob no ma solo questo effetto guarda che cade del nulla ti ammazzo dove sei non riesco a scendere io marco marco no non te la prendere con me non ho fatto niente non sono in creativa guarda ho l'evitation meno 10 sto andando giù invece di salire dove sei per cosa stai facendo non sono da nessuna parte guarda c'è l'evitation al contrario no mi sono bloccato di nuovo no 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 dai marci c'è l'evitation infinita aiuta aiuta sei in creativa te ovviamente no no sei in creativa sono a shift dai non vale lo stai facendo aspetta che ti apro qua sotto un attimino aspetta ecco così dove sei andato a finire non so sono volato via no marco non vale non va cosa no non vale non vale non va dai ride pure c'è un ride è che ti ho dato bethomen basta ti prego dove sei no 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 non hai rotto il letto non è vero sono rotto guarda ma non è vero ancora lì ma dove è ancora qua marco si si bello senti ascolta no 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 ma meno male spo a di nuovo in creativa aiuto ciao l'evitation sono troppo lento ho rotto il letto eh grazie ciao il vincitore sarà quello che Non lo so cosa possiamo dare al vincitore Non lo so Ma ci sono i pillager Ci sono i pillager in alto Ci sono i pillager in alto Ma guarda quanti ce ne sono Allora colui Sì ma li stai esponendo te dai Colui che? No non possiamo più farlo Era colui che sopravvieva i pillager Ok allora facciamo così Mettiamo 4 pillager qua 1, 2, 3 e 4 E partiamo dalle basi opposte vai Allora Vai dimmi quando sei pronto Aspetta Allora game mode Survival 3 2 1 Ora Vai No c'ho l'evitation No stavolta non te l'ho dato io Stavolta non te l'ho dato io Sei un cheater Vai Non è vero Non è assolutamente vero Marco non è vero Sei trovata stiera che stai premendo Non è vero mi sto trovando la creativa Mi ero dimenticato Sì ma li sto combattendo solo io si dannati No son vivo son vivo Vieni adesso è che tra me e te Ah Vai tra me e contro di te Ti sei mangiato la velo P Non è vero Sì ti ho visto No Ciao No 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 Mi son salvato Guarda te Dove sei? Dove sei? Per farci è tutto Ciao a tutti Ciao Ti sei buttato giù? Sì Ho vinto Ciao a tutti